Allora, siamo sul Bruccomela, siamo io e Daniele là in fondo, che non so se si vede, Daniele, è bellissimo, è bellissimo, siamo sul Bruccomela, siamo sul Bruccomela, siamo all'ultimo giro, c'è Daniele, Daniele, non si vede mai, è bellissimo. Stiamo filmando, stiamo registrando, è fantastico, sto filmando, va bene, sto filmando, bellissimo, stiamo filmando, stiamo filmando, stiamo filmando. Grazie.